A Natale ritorna il giocattolo sospeso. Puoi contribuire anche tu con un regalo che sarà donato a un bambino della città. È l'occasione per un gesto solidale che può aglietare le feste di una famiglia in difficoltà. Si può partecipare acquistando un libro o un giocattolo in uno dei negozi che aderiscono all'iniziativa. L'elenco è su www.comune.napoli.it oppure facendo una donazione sul sito unpaniereperte.it slash giochi. I regali resteranno al negozio e saranno consegnati ai bambini seguiti dai servizi socioeducativi del Comune.